Sfrutta i numerosi vantaggi di post delivery business con Shippie Pro. Prima di cominciare la connessione contatta il tuo commerciale post di riferimento per richiedere l'ID cliente e Secret ID. Accedendo alla tua area riservata posta è invece possibile reperire i codici dei centri di costo obbligatori per il collegamento. Ora che hai tutte le informazioni connettiamo il tuo corriere. Clicca su Corrieri e poi su Connessione per accedere alla pagina dedicata alle integrazioni. Clicca sul logo di post delivery business per aprire il pop-up e inizia a compilare inserendo per prima cosa il codice del centro di costo. Continua aggiungendo il tuo ID cliente e Secret ID già richiesto. A questo punto definisci il tipo di prodotto presente sul tuo contratto scegliendolo dal menu a tendina e seleziona il prodotto in relazione alle spedizioni internazionali. Seleziona le tue opzioni Delivery Now se previste da contratto. Puoi scegliere tutte le opzioni rilevanti ma dovrai effettuare più connessioni. Seleziona il tipo di etichetta tra i vari formati disponibili. Puoi scegliere di stampare anche l'etichetta di reso direttamente da questa procedura di connessione. Abilita l'opzione di ritiro automatico il giorno dopo la spedizione e attiva la modalità di test per provare l'efficacia del servizio. Ricordati però di inserire le credenziali di test che avrai ottenuto in precedenza dal tuo commerciale di riferimento. Una volta connesso il corriere è necessario riportare le tariffe presenti sul contratto in piattaforma. Per farlo clicca sul pulsante modifica prezzi e inizia con l'inserire la gamma di pesi e le relative tariffe. Compila poi la parte relativa alle opzioni aggiuntive e ai sovrapprezzi. Salva le modifiche e voilà! Sei pronto per iniziare subito a spedire! Ci auguriamo che questa demo sia stata utile. Non esitare a consultare il nostro App Center per qualsiasi dubbio tu possa avere. Grazie! Grazie! Grazie!